Due volte in vantaggio, due volte raggiunte e per la prima vittoria al di Liddo l'Unione Calcio-Biceglie dovrà ancora attendere. Il 2-2 con l'Atletico Vieste è un risultato che può soddisfare solo a metà la squadra di Di Simone. L'avvio dei padroni di casa è fulminante. La prima palla buona capita sui piedi di Cicerello, la cui conclusione viene deviata in corner. E' il preludio al vantaggio che arriva al minuto 10. Musa finisce giù in aria per l'arbitro e calcio di rigore. Dal dischetto va Dispoto che non sbaglia e porta in vantaggio la squadra di casa. La risposta dei garganici è immediata. Dapprima Gramazio sfiora il pari con un diagonale a due passi da cao, poi è colella ad impegnare il portiere bicegliese con un insidioso calcio di punizione ed infine è De Vita trovare il gioli di testa per l'1-1 al ventiquattresimo. La rete è subita all'effetto di una scossa per la squadra di Di Simone che si rituffa in avanti e trova il 2-1 con Musa che ribadisce in rete una conclusione di Cicerello respinta da Romano quando il cronometro segna il minuto 37. La gara è vibrante, il Vieste non ci sta ed al quarantaquattresimo riacciuffa il pari ancora con De Vita che sigla la sua personale doppietta e manda le squadre negli spogliatoi sul 2-2. Avvio della ripresa Unione pericolosa con una botta dalla distanza di Zinetti deviata in corner. L'approccio al secondo tempo della scuola di casa è ottimo, Dispoto sfiora la doppietta con un colpo di testa che sbatte sulla traversa a Romano battuto. Ad un quarto d'ora dal termine bicegliese rimangono in dieci, fallo di Andriano a spezzare una ripartenza di De Vita e doppio giallo per lui. Nel finale accade poco o nulla, al di Lido finisce 2-2 e per la prima gioia casalinga l'Unione dovrà ancora attendere.